Beh, 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 che bella risoluzione, ma sto laggando tantissimo, che cazzo, che usava questa roba? Sì, ma questa filighe è... ok, che bella risoluzione questa fotocamera, questa fotocamera è PC. E' a risoluzione media, 360, però... schifo assai. Beh, questo video verrà pubblicato al 5, e lo dovete paragonare al video che uscirà al 6, va bene? Anzi, i video usciranno stesso giorno, a stessa ora, e voi dovete scegliere quale risoluzione volete, se il video è PC, che questo qui è un video a telefono, quello che verrà...